Sulla TIA, tariffa per l'igiene ambientale, i comuni non possono applicare l'IVA. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione pronunciata nei giorni scorsi. La decisione non riguarda tuttavia il Comune di Napoli, che è ancora in regime di Tarsu, una tassa, non una tariffa, sulla quale naturalmente l'IVA non viene applicata. Ai cittadini si chiede perciò di non affollare gli sportelli tributari comunali per la richiesta di un rimborso inesistente. Comincia oggi presso la Fondazione Valenzi il secondo Tech Weekend del Bando Vulcanicamente, organizzato dal Comune di Napoli per scoprire e sostenere nuove idee imprenditoriali, soprattutto nei settori delle tecnologie informatiche e della comunicazione, della biomedicina, della progettazione urbana, delle innovazioni a elevato valore sociale ed ecologico. Venerdì 16 marzo, a partire dalle ore 10, il PAN ospiterà la giornata conclusiva di Smiles, un progetto per i bambini iracheni e profughi palestinesi in Libano, che vivono in condizioni disperate, in carenza di diritti, di medicine e di aiuti essenziali. L'iniziativa è curata dal Comune di Napoli e dall'Associazione Un Ponte Per. Fino a domenica 18, al Teatro San Ferdinando, Enzo Moscato e la sua compagnia presentano Ritornanti, parole da un non luogo. Un lavoro che interpreta l'anima viscerale di Napoli attraverso una sapiente mescolanza di linguaggi e di registri che fluttuano tra il fantastico il grottesco.